Signore e signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e da un nuovo video in cui parleremo come dire di un libro in cui utilizzeremo un libro per la precisione questo l'archivio segreto di Mussolini di Arrigo Petacco per rovistare un po' nella vita privata di Benito Amilcare Andrea Mussolini, meglio noto come devolzie del fascismo, meglio noto come collare dell'annunziata, meglio caporale d'onore della milizia, primo maresciallo dell'impero e insonne asino di predappio che ahimè non raglia più il mandiboluto mandibolone insomma. Allora premessa doverosa come dico sempre Arrigo Petacco non è sicuramente la migliore delle fonti perché soprattutto negli ultimi tempi della sua lunga carriera di divulgatore storico diciamo che qualche grossa castroneria l'ha detta ma ma in questo caso ha curato un'opera godibile interessante e molto ben documentata perché ha tirato fuori i documenti d'archivio della segreteria particolare personale del d'altro la foto di copertina è molto interessante molto curiosa perché fa vedere Benito allo specchio mentre scrive con la macchina insomma mentre batte a macchina notate bene il riflesso nello specchio è una delle pochissime immagini conosciute di Mussolini con gli occhiali perché Mussolini era presbite e odiava farsi ritrarre con gli occhiali tra le altre cose come citato anche da Petacco e come faceva anche Hitler e per lui era stata fatta una macchina da scrivere a caratteri molto grandi per permettergli di leggere senza occhiali di farsi vedere senza insomma di leggere senza gli occhiali insomma vanità tutto è vanità allora uno dei motivi per cui ho deciso di fare una nuova serie di video dedicata al all'intricato albero genealogico del 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 insomma del del pre da piota è stato perché mi sono ritrovato tra le mani qualche giorno fa di nuovo questo libro e sfogliandolo mi sono ricordato che c'era un interessante capitolo il quindicesimo per la precisione in cui si parlava ripeto della famiglia di Benito e tenetevi forte perché ci sarà veramente da ridere allora dunque verso la fine del 1942 ci dice Petacco Benito Mussolini decide di fare un po' di chiarezza in famiglia dispone infatti che venga svolta un'attenta indagine sul conto dei numerosissimi parenti del duce tra virgolette che hanno scritto o bussato alla porta di palazzo venezia nell'arco del ventennio che cosa lo spinga a dare il via ad un'operazione così complessa e per molti versi inutile in un momento tanto difficile per l'italia perché ricordatevi siamo alla fine del 1942 e la main è finita come finita e in quel momento è in atto la nostra disfatta sul fronte del nonno in quel momento vatutin ha levato le museruole ai suoi uomini e ha lanciato l'operazione piccolo saturno e l'armir è in rotta ma qui Petacco si dimentica di dire una cosa secondo me che questa cosa del dedicarsi a minuzie e quisquilie era un tratto particolare del carattere del duce benito tendeva molto a rifugiarsi in queste minuzie tendeva molto a come dire occuparsi di inizie mentre il mondo gli crollava addosso forse per non pensarci ci sono testimonianze vabbè la famosa battuta fa freddo meglio così schiattano le mezze cartucce queste cose così oppure quando si vantava sempre tra il 42 il 43 che erano stati fucilati alcuni borsari neri alcuni commercianti che avevano fatto mercato nero commerci diciamo di contrabbando erano stati fucilati e se ne vantava apertamente con pini se non ricordo male con giorgio pini mentre era in atto ricordiamoci la catastrofe di ella la main e la 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 sventura la tragedia di russia ma che vi posso dire era un tratto caratteristico del duce secondo me ma forse qualcuno di voi nei commenti mi saprà dire meglio allora forse è l'ennesima supplica di qualche fam di qualche famerico congiunto voglio sapere quanti sono e quanti soldi mi hanno pompato pare che abbia detto al segretario de cesare o forse è semplicemente una delle tante disposizioni dettate dalla sua mania di archiviare catalogare e schedare tutto quanto lo riguardi sì perché mussolini era molto vanitoso se per questo son vanitoso anch'io ma io mi sono limitato ad aprire un canale youtube vabbè lasciamo stare qualunque sia la molla che avvia la ricerca resta il fatto che i funzionari dell'ufficio investigativo della presidenza lavorano mesi per raccogliere documenti e informazioni necessarie alla compilazione delle schede personali di tutti coloro che vantano l'illustre parentela scusate ma ogni tanto il guido notari mi mi sale su lo sapete il duce comunque non pare abbia mai avuto il tempo di esaminare questo materiale e a quanto sembra non lo hanno visto neppure molti suoi biografi dato che lo schedario è stato scoperto molto tempo dopo la guerra da gaetano contini in un fondo dell'archivio centrale dello stato le schede tutte battute con la macchina per scrivere speciale come ho detto prima a caratteri grandi che consente a mussolini di leggere senza gli odiati occhiali da presbite sono esattamente 334 come dice la lavagnetta 334 parenti di benito un bel numero considerato c'è insomma che vi devo dire erano tanti ecco di queste 105 sono dedicate ai familiari di rachele guidi la moglie del duce e le altre 229 riguardano i parenti di mussolini dallo schedario naturalmente mancano i congiunti stretti cioè i componenti della famiglia del duce quelle e di quelle di suo fratello arnaldo e di sua sorella edvige ma gli altri ci sono tutti da agnoletti antonio a zanetti livio tutti con le loro storie i loro triboli i loro imbrogli le loro ingenue speranze si tratta di nipoti cognati cugini di primo secondo e terzo grado ma soprattutto di parenti acquisiti grazie a complicatissime ramificazioni genealogiche come è il caso di tale renato filippetti di cisterna il quale essendo come spiega il funzionario schedatore marito di artusi maria che è nipote di artusi luigi fratello di artusi corrado marito di guidi augusta sorella di sua eccellenza donna rachele allora è sposato con la nipote del fratello con la nipote del cognato di rachele insomma madonna santa è una cosa ancora più complicata di fare l'elenco di quanti spadoni di quanti parenti ho che sono tanti ma poi ci torneremo su questo discorso allora e renato filippetti pretende si presenta come parente del luce pretende di sedere nei posti riservati alle autorità nel cinema littoria e mantiene un comportamento sospetto ospitando nella propria casa giovani donne di non buona condotta morale sarà parente alla lontana ma anche lui ci aveva il vizietto l'indesiderato parente sarà trasferito a pistoia presso l'unione provinciale dell'agricoltura con uno stipendio di 1305 virgola 40 lire al mese se potessi avere mille lire al mese da un sommario esame di questo lungo elenco qualora fosse necessario per arguirlo emerge subito chiara la bassissima estrazione sociale del parentado mussoliniano abbondano i braccianti i fittavoli i mezzaldri i disoccupati moltissimi risultano analfabeti molti non hanno superato gli studi elementari in compenso tra i familiari tra i familiari acquisiti figurano tre nobili i conti pier giovanni e rosetta ricci crisolini e il conte giovanni pozzo teodorani fabbri detto vanni serbelloni mazzanti vien dal mare ok va bene ci sono anche tre religiosi frate pier grisologo artusi e questo frate frate artusi aveva questo nome c'è pier grisologo io vi giuro che quando le c'è pier grisologo pier grisologo di nomi assurdi ne ho visti tanti ma pier grisologo e e il massimo vale è don pari de mosconi e don colombo bondanini pedro avevi un po ne parliamo don pari de mosconi e un solo laureato il professor guido ruberti i nomi che ricorrono più spesso oltre a quelli dei mussolini e dei guidi sono artusi celli gervasi gimelli lombardi moschi riceputi bortoletti buvoli casadei del resto stiamo parlando di una famiglia romagnola castellucci clabacchi gorini maltoni rosa maltoni circonfusa da novella luce laverne poi vabbè mancini milandri ravaioli raggi ruffili santini tomasini vasumi e zanetti ogni scheda contiene una rapida biografia del congiunto generalità grado di parentela occupazione reddito accertato informazioni di polizia poi c'è il riassunto delle lettere che ognuno ha scritto a mussolini nel ventennio e le postille che il duce ha posto in calce alle stesse la più diffusa è questa due punti tra virgolette 100 scritto in numero puntato chiuse virgolette che significa pressa poco mandate gli 100 lire e facciamola finita in pratica per toglierseli di torno gli dava all'incirca l'equivalente di 200 euro odierni suppliche quant'altro così ho detto date gli 100 lire m puntato e non rompetemi le scatole povero duce povero duce povero duce povero duce l'uomo solo al comando circondato da parassiti sanguisughe e rompipalle mussolini infatti almeno da quanto risulta dallo schedario è molto stretto di manica coi parenti e sua moglie rachele la donna di casa la sdaura la rasdora la reggitrice della casa lo è pure più di lui per esempio quando giovanna campanini moglie di guglielmo caprincoli che è fratello di pietra moglie di alcide il quale era fratello di alessandro padre del duce insomma parentela alquanto alla lontana se vogliamo se vogliamo ma lo schedatore annota quando insomma questo questa giovanna campanini scrive che insomma chiede un aiuto chiede un sussidio il duce dice che sono dei profittatori e donna rachele non vuol saperne ma in seguito la campanini otterrà qualcosa 150 lire nel 34 200 nel 37 250 nel 40 e 200 lire nel 41 per aiutarla a estinguere un debito di 700 contratto da suo marito che coltiva un podere a mezzadria e ha sei figli da mantenere date figli alla fame altrettanta severità mussolini dimostra col cognato corrado artusi marito della sorella di rachele questo era il cognato l'artusi che lavora come becchino un collega che lavora come becchino nel cimitero di forlì con uno stipendio mensile di lire 558 da cui deve detrarre lire 219 per l'affitto oltre il quinto per l'estinzione di un prestito da quando suo cognato è diventato capo del governo ha cercato di trarne qualche profitto dedito al vino si precisa nella scheda con la moglie fisicamente minorata l'artusi usa presentarsi negli uffici per raccomandare le pratiche più svariate esibendo una carta da visita con la scritta cavalier corrado artusi cognato del duce va detto che benito non lo poteva vedere e ne aveva ben donde ma lasciamo stare e mussolini postilla per ora per ora ammonirlo poi si vedrà in seguito il becchino dopo essersi fatto coinvolgere in una serie di imprese poco pulite e aver tentato di farsi ricevere dal duce in compagnia di giovani donne sarà ricoverato all'istituto psichiatrico di imola se vi ricorda la storia di benito albino dasler mussolini c'aveva il vizio benito un'altra parente terribili è augusta guidi sorella di rachele ricordatevi fisicamente menomata se non ricordo male mi pare avesse avuto la poliomelite da ragazzina moglie appunto dell'artusi anche lei viene segnalata già nel 1926 perché qualificandosi come cognata del duce si è rivolta al prefetto di forlì per delle raccomandazioni e mussolini cognata sì raccomandazioni no ma lei insiste e negli anni successivi si rifaviva ora per chiedere sussidi ora per favorire imprese commerciali di cui è stata socia e che andavano tutte male l'ultima segnalazione che la riguarda è del 30 novembre 1941 la sorella di rachele la augusta guidi che ha un ruolo preeminente in una ditta per la macellazione dei suini finisce nei guai con la legge per via di una partita di prosciutti messi in vendita benché avariata il prefetto di forlì chiede al duce come deve comportarsi e mussolini chiosa secondo legge e senza preoccupazioni certi cognati i cognati sono sempre stati la rovina dei politici italiani vero gianfranco fini vero bettino bellitteri ma lasciamo stare ma non tutti i parenti sono così fastidiosi anche se dietro molte di queste schede si indovinano ristrette riunioni di famiglia suocere avide nipoti allupati ma allora è un vizio ma ce l'aveccio in famiglia ce l'ha alessandra diciamo che in quella insomma diciamo che forse ci hanno il vizio allupati vabbè vabbè gloria non mi fate essere lo sapevo io che a fare questo video mi divertivo come un matto vabbè 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 e tutti sono tesi a incoraggiare il parente fortunato a scrivere e a chiedere qualcosa a colui che tutto può va anche detto che la maggior che la maggioranza degli schedati è formata da brava gente che il più delle volte si accontenta di un sussidio di cento lire o che si limita a inviare confetti e partecipazioni sperando in un regalo che spesso non arriva cioè curioso Benito forazzava la famiglia Petacci e vabbè che i Petacci erano di meno ma vabbè come Benito Melandri cugino del duce commesso delle regge poste che si accontenta di un trasferimento da Firenze a Ravenna o come Giovanni Gimelli bracciante di mestiere cognato di Mussolini per avere sposato un'altra sorella di Rachele che domanda e ottiene mille lire in cambio di un biglietto di egualtaglio scaduto e che continua a vivere del suo lavoro come segnalano i carabinieri rifiutandosi di iscriversi al partito fascista sì perché ricordiamoci la famiglia Mussolini nasce come come famiglia di socialisti massimalisti e rivoluzionari e probabilmente Giovanni Gimelli quello era anche Livia Gervasi figlia di un'altra sorella di donna Rachele si accontenta di poco il 12 giugno 1938 manda una lettera alla zia chiedendo qualcosa visto che è povera che il suo fratello è disoccupato e che deve sposarsi disoccupato senza reddito che si deve sposare mamma pancina time vabbè lasciamo stare Mussolini scrive sì mille m puntato due mesi dopo la Livia Gervasi invia una bomboniera con cinque confetti ma non ottiene alcun regalo in compenso l'anno successivo riceve una macchina per cucire e una culla oltre a 350 lire per il corredino del nascituro ci può anche stare Francesco Gervasi altro cognato del duce nonché marito di un'altra sorella di spadoni ed eravamo in 27 in quell'accidente di casa ma vabbè scusate Francesco Gervasi altro cognato del duce perché marito di un'altra sorella di Rachele per alcuni anni si limita a inutilmente a tentare di essere ricevuto a palazzo Venezia non ho tempo annota Benito che scriva e Gervasi al fine si decide chiede di avere in mezzadria un podere detto il filichetto a Villa Carpena non è possibile emmè il suo nome riappare alcuni dopo nel 1935 c'è da assegnare un fondo con casa colonica nella zona bonificata delle ex paludi pontine e qualcuno avrebbe proposto di darlo alla famiglia Gervasi perché sottolinea lo schedatore tale sistemazione sarebbe ben vista da donna Rachele ma il duce annota un drastico non è vero e Gervasi rimane a predappio da dove si rifa vivo soltanto nel giugno del 39 lamentandosi per i danni sofferti per la piena 1000 m un ultimo sussidio lo riceve nel 1942 per degenza nella clinica Villa Torri di Bologna viene pure disposto il pagamento di ulteriori spese di ricovero ma non di quelle per eventuali permanenze di altre persone nella clinica stessa firmato Mussolini più favorita invece risulta la la figlia di Francesco Gervasi domenica la ragazza ottiene dalla zia Rachele di essere aiutata per continuare gli studi presso il buon pastore di Forlì ottenuto il diploma da maestra lo comunica allo zio esprimendo gratitudine e chiedendo in regalo una bicicletta e viene accontentata poche pretese l'anno successivo è ricevuta dal duce e il 17 ottobre 1941 si iscrive alla facoltà di lingue dell'università Ca' Foscari di Venezia la retta 850 lire per il convitto e 150 per le tasse è pagata con i fondi della presidenza la giovane domenica si rifaviva il 6 gennaio 1942 per ottenere una proroga della licenza del suo fidanzato l'allievo ufficiale Icilio Comparini gli vengono concessi 12 giorni cioè dopo io santo c'è odio mamma dopo Pier Grisolfo Icilio c'è il festival del nome strano a non tutti i familiari tra tra virgolette bastano le poche briciole che Mussolini vuole dispensare alcuni riescono ora con subdo le manovre ora con la minaccia di provocare scandali e diffamare il nome che portano a pompare molto denaro e molti privilegi allora è il caso di tale Alfredo De Rosa nato nel 1889 a Santa Maria Gabo Avetere che vanta una sorta di parentela perché sua figlia Silvia ha sposato Vito Mussolini figlio di Arnaldo cioè in pratica questo sarebbe il consuocero di il consuocero del fratello del duce che bello essere poveri e non contare un cazzo perché ti vogliono bene per quello che hai e non per quello che possiedi caro Benito va beh e questo De Rosa da quanto risulta dalla scheda non è proprio uno stinco di santo separato dalla moglie ha condotto per anni vita girovaga subendo denunce e condanne per bancarotta appropriazione indebita falso continuato usurpazione di titoli e altro vi ricorda un certo colonne ex colonnello dell'aeronautica congelato con diso Antonino sono una brutta persona con Mussolini De Rosa ripeto consuocero del fratello del duce consuocero di Arnaldo si fa vivo nel marzo del 37 per scrivergli mia figlia è oggi una delle donne più felici del mondo e ringrazio vostra eccellenza che ha evitato di umiliarmi e non ha permesso ad altri di sostituirmi evidentemente era stato salvato dal licenziamento in seguito De Rosa comunica che la corte d'appello di Milano lo ha riabilitato ed è riconoscente al duce per l'alto incarico che gli è stato affidato quale lavoro sia non lo specifica ma i carabinieri segnalano che la famiglia De Rosa abita a Milano in un lussuoso appartamento in via fate bene fratelli per cui paga un affitto di 16 mila lire l'anno successivamente De Rosa viene richiamato alle armi col grado di capitano ed è destinato a Roma come direttore dei conti all'officina militare metti la volpe amica a guardia del pollaio e poi non ti lamentare se te magna anche la testa del gallo vabbè e è anche precisano gli uomini dell'arma procuratore della ditta Gardini di Omegna produttori dei caricatori per mitragliere Breda tra cui anche il caricatore della giuda procuratore della società Banfi industrie di saponi e amministratore civile della società industriale e commerciale fornitrice del regio provveditorato dello stato la famiglia De Rosa continua il rapporto mena vita lussuosa a due persone di servizio serba regolare condotta non figura tra i regolari contribuenti dell'ufficio imposte allora ci avete il vizio ditelo nello schedario i parenti i parenti che hanno il privilegio di chiamarsi mussolini sono esattamente 17 non siamo a livello dei 27 spadoni però insomma nello schedario i parenti che hanno il privilegio di chiamarsi mussolini ripeto sono esattamente 17 ma i più terribili sono i tre cugini Tullio Venusta io avevo una zia che si chiamava Venusta una una prozia scusate una cugina una cugina di mio nonno materno sì e Cleonice figli di Alcide fratello del padre del duce aia 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 Alcide la prima a farsi viva è la Venusta che ha aperto un negozio di stampe di stoffe a predappio ma non fa buoni affari per non infangare il nome che porto scrive mi occorrono 20.000 lire per pagare i debiti e Mussolini scrive 5.000 sono anche troppe ma la donna non si arrende allarga il negozio ordina pellicce prende soldi a prestito dal credito romagnolo e secondo quali e secondo quanto precisano i carabinieri invece di firmare le cambiali col nome del marito Ernesto Vallicelli preferisce usare quello da nubile quello da ragazza firmando le cambiali col nome Venusta Mussolini e così per non far finire il proprio nome sul bollettino dei protesti il duce paga mamma mia signore dio padre c'è la Venusta informano ancora i carabinieri non frequenta buone compagnie compie spesso gite gite automobilistiche con un viaggiatore di commercio di nome Paolo Boschi pregiudicato ma il suo comportamento ha sollevato anche lo sdegno del marito il quale una sera avendo trovato la casa chiusa e la moglie assente fu dito imprecare essa si va a divertire e non pensa neanche a lasciarmi la chiave di casa e guardati segue una segnalazione in cui si annuncia che accertati i cattivi precedenti del boschi ne fu disposto l'arresto e l'invio al confine al confino infine in calce a un elenco di imprese sballate in cui Venusta Mussolini in in cui Venusta Mussolini in Vallicelli si è impegolata c'è una nota del duce impedire alla Venusta di occuparsi di affari benito parenti serpenti anche cleonice Mussolini assilla la segreteria dell'illustre cugino con continue richieste di aiuto la nota del duce non ne ha bisogno visto che mantiene un segretario e due cameriere non interrompe che per poco l'invio dei soliti contributi nel 36 cleonice chiede 2000 lire per pagare un debito 500 punto m punto è la risposta nel 37 cerca aiuto perché sotto cura costilla di Mussolini 500 punto m punto nel 39 ottiene un sussidio mensile di 450 lire il 21 marzo dello stesso anno è investita da un'auto mentre passeggia per ostia col segretario adone lampredi e questa porca miseria però non era colpa sua pagare il conto di lire 540 punto 60 firmato m sempre Mussolini nel 1940 cleonice chiede la promozione del suo segretario a centurione della milizia di fidarla m più tardi pretende che la cantante ebe marini venga assunta dal layer dice il duce nel 41 chiede ancora denaro perché per il nome che porto sono costretta a fare delle opere buone per andare incontro per andare unicamente per andare incontro al popolo davvero vabbè Mussolini invia mille lire ma scrive che occorre precisare che è un atto personale di sua eccellenza donna rachele successivamente certi luigi rodelli e lorenzo vanni vengono inviati al confino perché promettono impieghi avvalendosi del nome della signora cleonice mussolini cugina del devizie nel novembre del 42 l'ostinata cleonice ottiene ancora un sussidio di 1500 lire che deve però apparire come iniziativa del prefetto m tullio mussolini il terzo dei cugini terribili nel 32 è sergente dell'aeronautica invoca aiuto per iscriversi all'università venito gli manda 800 lire subito dopo si segnalano che il sottufficiale è partito per roma senza autorizzazione e il duce scrive di punirlo severamente avrà un mese di fortezza ma anche una stecca di 1800 lire che non erano pochi all'epoca nel luglio dello stesso anno il giovane vorrebbe 5.000 lire per il corredo personale e per cure mediche alla risposta negativa ribatte e arrogante che si faga che si farà curare lo stesso e non pagherà il conto benito abbozza e gli manda 2.500 lire alcuni mesi dopo il maresciallo balbo alcuni mesi dopo il maresciallo balbo segnala che l'allievo ufficiale tullio mussolini frequenta tutte le sere la casina delle rose era la casina delle rose ma fatelo maschile a roma e non in compagnie eccellenti aiaiaia tullio tullio mussolini tullio rimproverato dal duce il cugino si scusa e ne approfitta per battere cassa e benito gli sgancia mille lire nell'aprile del 34 chiede ancora denaro perché pieno di debiti allora scusate se ve lo dico è ma perché fascisti e debiti vanno sempre a braccetto non sapete dire vabbè 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 gli mandano 4.300 lire con questa annotazione del duce se non la smetti ti faccio arrestare tullio precisa lo schedatore ha già ottenuto fino a quel momento elargizioni per 15.000 lire all'incirca l'equivalente di attuali a spanne un 40 50 mila euro più o meno inviato in africa orientale italiana il tenente tullio mussolini lascia da sbrigare alla segreteria del duce una penosa vice penosa una vicenda penosa con una con protagonista la solita ragazza sedotta e abbandonata cose del genere col nome che porti sono intollerabili gli manda dire benito e tullio ribatte sono colpe che devono ascriversi a quel ciclo di avventure che ogni uomo voi compreso credo che abbia avuto in gioventù tale cugino tale zio tale cugino insomma tra cugini ci si intende doveva essere un vizio di famiglia e di io continuo a pensare a floriani ma vabbè lasciamo perdere nel 39 comunicano che l'ufficiale ha comprato una macchina lancia astura sarola bei gusti però aveva dal valore di 20.000 lire senza pagarla e mussolini dice di fargli sapere che deve subito saldare il conto altrimenti autorizzerò il creditore a procedere a norma di legge tullio risponde che pagherà appena il governo locale rileverà la mia azienda in africa orientale italiana quello delle aziende le fallimentari aziende aperte dagli itadei coloni o dai profittatori in africa orientale italiana è un capitolo che andrebbe studiato veramente con attenzione ma a o i non era africa orientale italiana era affari onesti impossibili ricordatevi quello che disse il ministro delle colonie a mussolini duce le colonie si stanno mangiando la madrepatria le colonie ci costano dieci e rendono tre mussolini ovviamente lo cacciò a questo punto allora tullio risponde dicevo che pagherà appena il governo locale rileverà la mia azienda in africa orientale italiana l'anno prima aveva ottenuto una concessione agricola nello arar nella regione dell'arar a questo punto la situazione economica è la seguente possiede una azienda valutata 500 mila lire che non è poco ma a 475 mila lire di debito con la banca d'italia 310 mila col banco di roma e probabilmente altri non conosciuti per far fronte a questi impegni chiede che gli sia versato un milione di lire a liquidazione della sua proprietà ma il cugino benito non è d'accordo che non gli sia dato nulla di più di quanto vale senza arrotondamenti e senza larghezze firmato m come sempre tullio incassi in cassa infatti 570 mila lire che però non bastano per pagare i suoi debiti il suo scoperto è ancora di 310 mila lire che non sono pochi segnalano interviene la segreteria del duce e il cugino ottiene una rateizzazione in cinque anni a quote mensili di cinque mila lire ma non può pagare ripeto il grande amore dei fascisti per fare debiti e non pagarli vabbè non fatemi essere cattivo e cerca ancora aiuto questa volta Mussolini ha consente la liquidazione della sua azienda è andata come è andata se non fosse stato un Mussolini gli avrei fatto dare almeno 200 mila lire di più sua moglie sta per avere un figlio lui guadagna poco più di 2000 lire al mese ovvero sia se potessi avere mille lire al mese cioè praticamente era il più del doppio del normale stipendio di un impiegato ma vabbè diamogli subito 5000 lire e paghiamogli le prime cinque rate per il rimanente per il rimanente che si arrangi Mussolini si vede che non ne poteva più la scheda si conclude con la seguente annotazione il capitano Tullio Mussolini non risulta iscritto all'ufficio delle imposte Dio patria famiglia rispettate la legge rispettate le regole rispettate questo rispettate quest'altro ma le regole valgono sempre per gli altri oserei dire che è un grande classico insomma signori come abbiamo visto in questo lungo video ed è solo il primo di questa serie il parentado mussoliniano è qualcosa di complesso e intricato ricordiamoci che i Mussolini e anche i Guidi la famiglia di Donna Rachele erano famiglie contadine all'epoca ripeto io faccio sempre l'esempio della famiglia Spadoni vivevano in una casa qui l'attuale locanda da Tullio su in cima al cosiddetto Monte Sterpeti qui a Sterpeti di Monte Felcino in provincia di Pesano la famiglia Spadoni era cioè erano tre famiglie tre fratelli il mio bisnonno Luigi il padre di mio nonno Rodolfo sì vabbè sì mio nonno paterno il mio amatissimo nonno paterno si chiamava Rodolfo che vi devo dire e dicevo il bisnonno Luigi e due suoi fratelli con i figli e le mogli e i figli dei figli che occupavano questa casa occupavano erano mezzadri e lavoravano in questa casa 27 persone io spesso e volentieri mi ritrovo mi è capitato anche la settimana scorsa mi è capitato anche la notte di San Lorenzo ero ad un evento dell'organizzatore comunista Sombrone l'organizzatrice dell'evento mi dice ma perché noi siamo parenti io non la conoscevo era una ragazza che non conoscevo perché devi sapere che mia nonna era cugina di tuo nonno e io non lo sapevo cioè era cioè ripeto era un apparente insomma anche se viviamo a 5 km di distanza io non sapevo assolutamente dell'esistenza di questa mia parente e di cioè una cosa intricatissima cioè come abbiamo visto la gran massa di suppliche di richieste che arrivano al Duce è da parenti lontani acquisiti ci sono i tre terribili Cugì Tullio Mussolini mamma mia che razza di elemento cioè io leggendo le gesta di Tullio Mussolini non so perché ma mi è venuto in mente quell'altro bel fenomeno di un altro aviatore Antonino Trizzino anche lui che c'aveva quei vizi lì fare la bella vita e non pagare e appropriazioni indebite varie ma vabbè signori che vi devo dire la famiglia Mussolini la famiglia Guida l'intricato l'intricata ragnatela delle parentele di Benito e di Rachele c'è di che perdere la testa sì oggettivamente sì ma ripeto stiamo parlando di famiglie contadine della prima metà del ventesimo secolo dove le famiglie con quattro cinque sei sette figli anche di più erano la norma c'è tanto per dirne una nonno Rodolfo nonno Rodolfo ha avuto con sua moglie nonna donata Carnaroli che anche la famiglia Carnaroli quanti cazzo sono i Carnaroli i parenti dei Carnaroli non avete idea di quanti sono cioè guardate adesso questa è una cosa personale cioè la famiglia di mia madre Damiani cioè mio nonno guerrino Damiani mio nonno materno guerrino Damiani mia nonna materna terzina Cecchettini maritata Damiani mio nonno paterno Rodolfo sposato con donata Carnaroli allora le famiglie Damiani Cecchettini Spadoni e Carnaroli qualche tempo fa mi sono divertito con mia sorella a fare una un un abbozzo di quanti cioè siamo oltre 150 e e in molti o ci conosciamo a malapena o non ci conosciamo per niente e per dire e l'intricata genealogia l'intricatissima genealogia del duce è figlia di quegli anni è figlia delle famiglie numerose prolifiche e povere e miserabili di quegli anni colpisce il fatto che cioè sembra di leggere sembra di leggere certe lettere che i papi che i sommi pontifici del sei del diciottesimo e diciottesimo secolo mandavano ai parentici insomma non c'era niente di diverso rispetto a quando veniva eletto un nuovo pontefice al soglio di Pietro e immediatamente si precipitavano a Roma stormi e stormi di parenti cioè che vi posso dire il nepotismo non è certo una novità per l'Italia lo sapete fin troppo bene Mussolini da quello insomma benito da quello che risulta dalle dalle schede del parentato ripeto schede che molto probabilmente è quasi sicuro che lui non abbia mai letto era circondato cioè va bene ci può stare la nipote di secondo insomma la pronipote che gli chiede un aiuto per sposarsi o per studiare e lui glielo concede va bene ma Tullio Mussolini ma che razza di parassita era Cleonice Mussolini l'altra cugina ma che razza di parassita era un libro decisamente interessante con un capitolo quello dei parenti del Duce molto 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 pregno molto sugoso molto croccante molto interessante che ci fa capire molto di questo paese molto del familismo amorale che permea da millenni l'Italia storie cioè va bene io posso capire la ragazzetta che si sposa e il lontano parente ricco che gli manda una somma non disprezzabile per il matrimonio e per il corredino del bambino che sta per nascere va bene va bene moralmente discutibile ok ma tutto sommato innocuo ma ripeto un figuro come Tullio Mussolini se non avesse portato il cognome che portava altro che altro che la galera cioè sarebbe stato cioè insomma se non avesse portato il cognome che portava e lo sapeva e ricattava il cugino per questo come abbiamo visto ricattava tra virgolette ma insomma ma se io finisco nel bollettino dei protesti ci finisce il nome Mussolini che teneva moltissimo alla forma a bozza paga o quantomeno salda una parte dei debiti una cosa squallida indubbiamente sì ma in tutti i regimi autoritari è così possiamo vedere ne abbiamo esempi clamorosi nella Germania nazista ne abbiamo esempi clamorosi nella Russia sovietica ne abbiamo esempi clamorosi nel Cile di Pinochet dove la figlia di Pinochet si è fatta annullare dalla Sacra Rota tre matrimoni solo perché era figlia di Pinochet ma vabbè ragazzi che vi devo dire non è certo una novità che il potere attira certe figure come la maherda attira i mosconi lo sapete anche voi e quando c'è l'uomo solo al comando quando c'è un regime autoritario tipo Castro Maduro Lukashenko Ziovova sappiamo bene che parenti e amici fanno sempre il bel non è che tanto fanno sempre il bello e cattivo tempo ma sono sempre lì come avvoltoio attorno alla carcassa in cerca di spolpare qualche pezzo non ancora del tutto putrefatto o qualche osso con attaccato ancora un pezzettino di carne ma vabbè scusate la sanguinolenta metafora ma è quello che mi è venuto in mente quindi signori primo video della serie Benito e i parenti serpenti ci sarà da divertirsi signori ci sarà molto da divertirsi il video è durato un'ora io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione ci vediamo con il prossimo video vi aspetto ricordatevi che il 29 settembre 2024 sarò a Crevalcore al castello dei Ronchi per Four King and Country insieme a Giovanni Cecini io vi aspetto lì non vedo l'ora di vedervi sarà la mia prima conferenza dal vivo sono emozionatissimo e contentissimo ci vediamo al prossimo video voi iscrivetevi a questo accidente di canale fatemi sapere ripeto qua sotto commentate qua sotto fatemi sapere che cosa ne pensate e come sempre un abbraccio fortissimo enorme e soprattutto ciao ciao